Buon dia a tutti, eccomi qua, direttamente dalla mia cabina armadio, sapete che mi piace tanto No, vi volevo salutare perché mi avete detto che vi manca la mia voce, non so come questo possa accadere però va bene, quindi ho detto vado a mandare un salutino, vado a raccontare qualcosa ma la verità è che io non racconto più niente, cioè da tempo che racconto poco ma l'altro giorno vi ho condiviso questo fatto che il cosiddetto non stava bene se voi aprite su internet ci sono delle notizie, degli articoli che dicono che io praticamente ho quattro mesi di vita e quindi è meglio magari tante volte stare ziti, tacere e bla bla comunque va tutto bene, i cuccioli stanno bene, il lino sta bene, si è recuperato ogni tanto ho un pochino di tosse ma penso che la tosse la bronchitis, la tosse canile sia un po' così E allora noi siamo contenti, cara Cecilia, che questa luna di miele infinita stia procedendo al meglio ci vediamo al prossimo aggiornamento con i Moser, ciao!